Buonasera Maria, stasera siamo a Ponte, un ridente paese della provincia di Benevento. Dobbiamo recapitare il tuo invito alla signora Giovanna, andiamo a cercare. Ciao Maria! Maria, ho superato la famosa curva di Pisticchio e se n'è anche uscita la catena, ma sono quasi arrivato, ce la faremo. A dopo Maria! Chi è? Buonasera, la signora Giovanna? Ehm, un attimo, grazie. Grazie. Ma che penso? Ma che? Signora Giovanna? Può scendere per favore, devo ricapitarle un invito. No. L'aspetto è giù al portone signora, grazie. Buonasera, la signora Giovanna? Sì. Abbiamo un invito da recapitarle, signora. Prima dovrei farle qualche domanda però, eh. Sappiamo che lei è del segno dei pesci, è vero? Sì? Sì. Ah, bene. La prima è andata. Sappiamo che il suo papà lo chiamano Pavarotti, è vero? Non lo so, diciamo di sì. Sì? Sappiamo anche che lei è una maniaca dell'ordine. Uuuh! Sì? Sì. Ok, che ha due splendidi figli, un marito dalle mani d'oro. Poi? Basta, queste sono le due. Allora è lei, la signora Giovanna. Possiamo ricapitare l'invito. C'è un invito da parte della signora Amalia De Filippi. Eccolo qua. E adesso che cosa dice? C'è posto per te. C'è posto per te. Apre la busta. C'è posto per te. Va bene, grazie. Grazie a lei, signora. Chi me? Ah, già risposto. Quindi non mancherà l'invito. Per sapere chi la manda deve venire da Maria. Ok, va bene. Ci vediamo tre. L'aspettiamo, signora. Assolutamente. Grazie. A lei. Ciao. Ciao. Ciao.